Hola a tutti ragazzi sono il vostro Luke e oggi finalmente dopo un mese, un anno, un secolo sono finalmente tornato qui a fare un nuovo video Ragazzi molti magari erano un po' dispiaciuti che ho mollato per un mese, altri magari festeggiamolo, stappavano lo champagne Ma adesso vi spiego il perché della mia assenza, davvero molto lunga Ormai siete abituati sul mio canale ragazzi con questa assenza però va bene, lasciamo stare Come vi faccio vedere subitissimo, guardate cosa sto usando E' la shaders extreme, sarebbe la versione ultra della chocopi Voi direte Luke ma il pc ti vuole così Ragazzi cliccando F3 vedete quanti fps va Sono tra i 60 e i 58 fps per un massimo scendere perché minecraft ha il limite di 60 fps Cosa voglio farvi capire in questo modo ragazzi Praticamente mi è arrivato finalmente il nuovo pc Stavo aspettando il nuovo pc ragazzi che grazie ai miei genitori, grazie al sito OS Gaming ho potuto permettermelo Perché dico grazie a OS Gaming? Perché l'azienda mi ha aiutato molto a trovare un'offerta conveniente In che senso? Voi ragazzi potete contattare l'azienda che trovate in descrizione del sito oppure facebook E potete parlare e proponendo la vostra configurazione E loro vi faranno un preventivo, ossia un prezzo per il computer E davvero ragazzi con fronte ad altri prezzi che ho trovato in giro Per questo computer aver speso quella cifra è davvero enorme Poi ragazzi nei prossimi giorni usciranno forse dei vlog anche per questo Oltretutto ragazzi devo comprarmi anche la webcam E per chi vuole darmi una mano di voi trovate il link delle donazioni in descrizione Perché ho speso davvero tantissimo per il pc, per lo schermo e per tra virgolette il salvavita del pc Che è molto importante per quanto se ne va la corrente Detto questo ragazzi voglio subito parlarvi di ciò che succederà e quello che potrebbe accadere subito Prima cosa ragazzi vi dico che forse il microfono si sente un po' male Perché siccome ho rimesso a posto la postazione può darsi si sente un po' con malicchio Però vi devo avvertire di una cosa Sto aspettando che mi arriva sia l'asta che i pannelli fonoassorbenti In modo da poter controllare meglio l'audio Detto questo ragazzi io voglio avvertire di una cosa davvero bellissima Siccome adesso ho finalmente un pc della madonna Perché si può definire così con dei componenti che dopo vi elencherò che sono davvero una bomba Porterò nuovi giochi come ad esempio Arma 3 Aspettando che apri il server di Luke 4316 Siccome è un server italiano Poi CSGO, Rocket League Adesso non mi vengono nemmeno in mente Comunque ragazzi tanti di quei giochi che ho già E poi magari ragazzi se volete altri giochi tipo GTA e roba così Devo chiedere una mano a voi Perché comunque i giochi che ho elencato prima già ce l'ho E non devo spendere in nada Detto questo ragazzi per chi è interessato ai componenti ve li dico subito Praticamente il processore ragazzi vi dico i due pezzi più importanti Così subito ci leviamo queste cose dalle mani Allora sembra un po' brutto quello che ho detto ma lasciate stare Il processore ragazzi è un i7 7700K Credo che sia il miglior i7 dedicato al gaming E soprattutto ragazzi l'ultimo uscito Molti avranno visto anche recensioni di Blink O qualche altro youtuber che porta tecnologia Quindi ce lo conoscevate Quindi ragazzi l'i7 è davvero una bomba E poi ragazzi la scheda video 1070 aereo da 8 GB Cioè ragazzi una 1070 Mi sta reggendo la shaders mod ultra a 60 fps fissi E davvero ragazzi è una cosa stupenda E tutto questo ragazzi devo dare un grande ringraziamento Soprattutto AS Gaming Che mi ha permesso di fare questa configurazione stupenda A un prezzo così basso Comunque ragazzi come preannunciato Finalmente il PC è una bomba Porterò sicuramente altri gameplay Devo sistemare soltanto l'audio e un po' del microfono Perché sicuramente sentirete un po' diverso Però detto questo Spero che il video di oggi vi sia piaciuto Io sono ancora vivo Non so in quanti di voi vedrete questo video Comunque mi raccomando Per vedere tutta la configurazione del PC nuovo La trovate in descrizione Detto questo Lasciate like Commentate il video Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti